Io direi che ce lo ricorderemo sempre, Genova non dimentica queste cose, soprattutto Genova non solo non dimentica ma anche nelle azioni future ne tiene conto, infatti stiamo riprogettando completamente la torre piloti, stiamo facendo il lavoro necessario per ricostruire il sistema migliore di come era prima, questo è il messaggio che ci viene da queste disgrazie, non solo questa ma anche di tante altre disgrazie che abbiamo avuto, il messaggio è ricordarsi di quel che è successo per far sì che gli errori non si ripetano più e per far sì che le nuove cose siano fatte in maniera migliore. Sapete abbiamo queste condizioni su cui non possiamo fare niente, possiamo solo cercare di limitare i contagi e lavorare bene per ritornare ad avere una vita normale il più fretta possibile, l'appello è sempre a tutti i cittadini genovesi affinché mantengano le disposizioni, osservino le disposizioni e facciano in modo che facendo così si possa ritornare il più in fretta possibile ad avere la nostra vita che è una grande qualità di vita.